Stamattina al Viminale Salvini dà la cittadinanza ai due ragazzi a Milano, i due eroi, i ragazzi che hanno salvato poi tutto il resto dei compagni, quindi c'è del vero, è una mossa politica, è propaganda, ci crede sul serio, l'ho convinto io. Siamo alla campagna elettorale, questo penso se ne sono accorti anche i più piccoli, io sono contento che viene data la cittadinanza onorare perché se lo meritano e questo è anche il segno come il vento sta cambiando nel nostro paese. Evidentemente lo stesso Salvini si sta rendendo conto che la corda del razzismo la può tirare fino a un certo punto, ma soprattutto gli stiamo ricordando da un po' di tempo, lo dico da uomo delle istituzioni e con la sua politica mette a rischio la sicurezza nazionale del nostro paese, perché un paese che continua a alimentare rancore, odio e razzismo coltiva anche germi di odio nei confronti del nostro paese. Quindi bellissima la testimonianza di questi ragazzi, non italiani, che hanno dimostrato di quanto amano l'Italia, a differenza del loro ministro dell'interno, che dopo aver detto no alla cittadinanza si è reso conto che di fronte a una mobilitazione popolare così importante, e visto che siamo in campagna elettorale, ha dovuto un giorno mettere la maschera. Grazie. Grazie.